Direttore Fracchialla, oggi il giorno di Morosini e di Munno, ieri il giorno di Sparandeo, insomma avevi promesso tre acquisti e sono arrivati e adesso ti tocca la punta. Ma oggi è una giornata importante perché secondo me l'arrivo di Morosini rappresenta un percorso iniziato più di un anno fa, un altro arrivo importante secondo me va a aumentare quella che è la qualità della squadra ma soprattutto essere un giocatore di spessore come l'anno scorso è stato l'acquisto di Iocolano, quest'anno secondo me l'acquisto di Morosini rappresenta un punto importante per tutta la società, secondo me devi inorgoglire il presidente di Munno, il direttore generale Maiolo e tutta la città perché abbiamo preso un altro giocatore veramente top per la categoria. Ora siamo felici, ci godiamo questa giornata, il ragazzo è felicissimo di essere venuto qui e quindi questo è un punto importante. Ora testa bassa, abbiamo la partita di Vercelli che secondo me è una partita molto importante del mercato, sì, forse manca solamente un ultimo tassello però vediamo, già lo sforzo per Morosini e gli altri sforzi per completare la scuola sono stati importanti, ora vedremo se abbiamo budget per fare un ulteriore sforzo altrimenti comunque numericamente siamo coperti. Ecco questo binario col Monza può portare ancora qualcosa proprio poi in quel reparto, finotto un obiettivo comunque se ci saranno le opportunità per portarlo in giro celeste. Mattia è un ragazzo importante, non solo in cima credo anche in categoria superiore, è un giocatore che stimo tanto però è normale che non dipende da noi, il Monza l'ha reintegrato perché l'anno scorso si è rotto il crociato giocando col Monza che all'inizio è partito titolare lì a Monza e si è rotto il crociato, ora sta recuperando, il Monza l'ha reintegrato, è sicuramente un giocatore importante per loro, se per loro dovesse essere in uscita sicuramente ci faremo trovare pronti perché è un giocatore che piace, poi è normale che ha un grande rapporto con Iocolano e con Morosini quindi potrebbe essere una situazione importante però è stato appena reintegrato in prima squadra e quindi credo che possa rimanere con loro anzi sarebbe giusto perché è un giocatore veramente importante anche in B. Ecco, è nominato la partita di domenica con la Provercelli, recuperatevi sicuramente l'ora che era squalificato, quindi un innesto di esperienza rispetto alla gara con l'Albinoleff che magari vi aiuterà anche a trovare quel dettaglio che vi è mancato proprio contro l'Albinoleff a Gorgonzola. No, recuperiamo l'ora, è sicuramente un giocatore di spessore, avremo Sparandeo, avremo Di Munno, vediamo se avremo anche, non credo che avremo Morosini, vediamo, però è sicuramente una squadra che oggi si presenta all'appuntamento di Vercelli carica, una squadra che secondo me è a grande entusiasmo, dobbiamo essere bravi a partire col piede giusto. Vercelli è sicuramente una delle squadre favorite di questo campionato, una squadra importante, costruita per fare un grande campionato, un allenatore forte, l'anno scorso sono arrivati i terzi, quindi una squadra che parte più avanti della nostra, però daremo filo da torcere come è su ogni campo. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi.